benvenuti in un nuovo appuntamento quattro chiacchiere col tacco più spesa oggi è sabato 9 giugno e allora come saprete tutti beh ho fatto il primo o penso appena arrivato dal lavoro su un po stanchino e quindi mi sono avuto sono andato con la spesa che c'era a morire con tontolino la sopra la banca ubi così ci danno un po di soldi ogni credit e va bene ok che poverino gira sempre in quella zona ecco da che abbiamo aperto sto parentesi povero giorgio lascia stare quella povera femmina di giulia che non te la dà perché i falchi si producono una volta solo all'anno al meno che casi eccezionali non perdono tutte le volvo allora si producono due volte però i pulcini i pulvi sono venuti fuori bene a parte una disgrazia e tu inutile ti metti nel nido lì a provare a convincere ancora a copiarsi infatti ti ha detto di no giusto luisa non ti insiste però ai ormoni come tutti i uomini ci prova ma lei ha detto nix 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 infatti ho visto che lui la corteggiava faccia tutti i versi possibili ho detto vuoi vedere che è in calore e lei lo guardava e l'ho lasciato lì come un sasso ma niente la storia di di faichi come si dice luisa restano guardano motori adesso mali controlando tutti i giorni ci dà notizie nel sito del facebook e gioia e giulia e falchi pellegrini a milano se vedete li hanno gps tontolino come lo chiamo sparta con lo chiamano al gps quindi alle coordinate che sono precisi ogni due ore al puntino prima c'era quello rosso purtroppo come sapete la femmina si è schiantata contro a un grattacielo purtroppo i vetri se non fanno qualcosa è una trappola micidiale e la città e invece lui si è predisposto in una zona non molto distante dal pirelli però la zona verde un parco si posa sempre sopra sta banca che è un altro grattacielo quindi mi sa che è ancora aiutato dai genitori però prima o poi non so se resterà lì o se ne andrà perché i territori di falchi dipendono sempre da quanta quanta carne quante carne carne hanno insomma quanta prede hanno nella zona che più prede ci sono più le zone di caccia sono piccole quindi non dovrebbero farsi del male fra di loro e basta insomma noi lo stiamo se ne stiamo seguendo ormai credo saranno verso la fine che tra poco dovranno arrangiarsi mentre di sera ho guardato un video su sto un falco ghebbio si chiama così e sono verso la parola che è stato cresciuto in casa perché era piccolissimo un giorno di vita due e moriva quindi ha fatto del che è cresciuto finché lo hanno stato libero ma credo che ci era intorno a casa perché non avendo la possibilità di essere elevato dei genitori che lo aiutano a cacciare tutto mi sembra quasi strano impossibile che riesca a cavarsela sola almeno è vivo insomma poi basta come sapete fa caldo tanto caldo e niente ieri è venuta giù tanta di quell'acqua che non so quanto è venuta una marea e soprattutto devo stare dietro le pazzie di luisa perché allora a parte che più o poi metteranno entro perché spazio di pacchi arrivano sotto casa persone con gli schiauchi agli scuri io io una cosa mi fammi vedere io dico fammi vedere la merce tutte che dicevano scambi roschi vero e poi quella che si è presa ah sì si è presa lo sdraio da dove da amazon si è preso un bel sdraio bello tosto con il verso capo è passura ma vuoi scappati cavolo perché lo hai ripiato intanto ben tosto il senso che meno sdraio detto quelli che si piegano si rompono un bel tosto e questo è tanto sicuramente otto chi sicuramente pesa un pochino a chi lo dici scusa ovviamente rapporto io non c'era non c'avevo qui dubbi e sto qua anche a fatti magari vicino al lago posso cadi dentro senza non so può essere con relax e no mi lasci finire allora sto slettino al tettino quello sopra testa per il sole dopo non puoi negare perché tu hai già il buy watch è possibile che nei fatti è stato domenica siamo dati la guiseo lei è stata delle ore in acqua e io delle ore mi sono bruciato sono cotto cioè io ero vestito la testa ai piedi purtroppo non ho fatto non mi sono reso conto che le caviglie al momento erano tranquille era toccato non avete presenti giubbetti di forforescenti per le strade ecco così e non vi dico lavoro che male perché non ho messo la crema invece bisogna mettere la crema adesso sempre un visito sembra si stata staccando tutta la pelle quindi è una cosa incredibile poi cosa si abbiamo non so se sapete cosa abbiamo già prenotato lasciamo stare le vacanze a fine luglio ma a fine mese faremo fine settimana al lago di caldonazzo che è vicino quello di levico sono vicini lago di caldonazzo dove nasce il brenta il brenta è quel fiume che ci passava vicino casa quando stavamo in provincia di padova lo sapevi o no 30 piastola sul brenta ai e basta famoso per cui tanto galleggiava un morto non possiamo stare e quindi andiamo lì faremo non so che ora andiamo la mattina sì sì perché in utente in utente da venerdì sera che devi fare la finire l'alga branca che vuoi l'alga branca che ventilatore ti fa male la testa potuta stare atta sì beh io no a non farmi cantare quella bella canzone venta sono un pensionato è migrato perché è un gruppo si chiamano bronze querte che sarebbero le bronze querte pesce tradotto in italiano le bronze querte sarebbero avete presente il focolare il fuoco in casa il fuoco che sembra morto ma se voi andate col ferro sotto ci sono pure i tappili rossi come come li chiamano le quelle cose rosse che si sono le braccia ecco noi in veneto si chiamano il bronze messaggio e questo è il gruppo si sono due un duetto sono due persone comiche ridono ovviamente parlano solo in veneto e hanno fatto sto cd queste le canzoni come come si possono dire riprende cioè sono canzoni inglesi qua delle cover però sono canzoni famose c'è la musica è quella ma non è scritto il testo in dialetto veneto ecco abbiamo anche l'ecco cd il mio amico che mi ha detto che sono sono andremo ancora dopo questa frescura che comunque bello che diceva calca storie che ti piace e sono un pensionato migrato e per i tutto di la prova fa ricordo più canzone nea la capo va in pensione può se spada che aveva beh chiudo qua perché il video sta andando troppo lungo e sto dicendo solo cavolate come vedete io non ho scalete quello mi viene in mente ve lo dico quindi dico tante bagianate l'importante che vi diventi e divertiate allora andiamo avanti con la spesa allora sì anche perché domani verrà suo padre del sistema la macchina quindi abbiamo preso un qualcosini fatto altre cose in più ora ho preso due pacchi di spinaci cubetti quelli suggerati sono 600 grammi e sono 99 centrisimi all'uno poi preso un po di zucchine vengono un euro 29 al chilo ho preso questa bustona perché adesso in estate cominciamo fare cose fredde del meglio ormai l'insalata verga basta perché ci siamo stufati sei pazza senti diversi strani ma non è che che ti stai sniffando quello lì che scatta ogni tanto eh sì tra poco fa l'appi mai e vogli fuori dalla finestra sì perché tutta oggi ha fatto dei beni capolavori che ve li farà vedere più avanti va bene bellissimi e bellissimi tanto faremo a casa piena quindi allora un sacchettone di un chilo di mozzarella viene 3,99 no no usale usale tanto ah ecco riprende mi interrompo un po discorso di gigaway ve l'ho detto giusto la facciamo più avanti no ve lo ricordo a tutti che quando arriveremo 2000 luisa farà il solito sorteggio chi vincerà e farà un lavoretto al suo lavoretto su a chi ha vinto come lavora insomma se io in poche parole dico così ecco poi ho preso la balleriana 125 grammi minero 39 grammi e lo 39 grammi e anguria o cocomero 7 kg di cocomero 45 centesimi al chilo e non muoverti che dopo di dirlo tagliare farà pezzi sezionare e mettiti in freezer così faremo o il gelato o il sorbetto ok non muoverti di dire poi ho preso un chilo di riso per il bimbi viene fuori un euro 19 è in offerta poi cipolle cipolle 89 centesimi cipolle dorate poi questo il mais e tanto quello che mi piace sempre sottovuoto un euro 25 e un euro 65 scusate aglio l'aglio bellissimo aglio dalle mie parti di suriani sempre ricordi rovigo 0 95 centesimi pomolori pomolori per fargli avere la pasta a freddo come pomolori freddi con aglio vero e e prezzemolo basilico tanto per farci un'altra volta di stomaco 0 99 centesimi il chilo latte ho preso 7 confezioni di latte all'interno 0 69 centesimi che al litro scusate ho preso il croissant alla bicocca viene in 10 pezzi un euro 89 pancetta affumicata vende 0 89 centesimi il zucchero ho preso zucchero ecco qua un chilo di zucchero 0,75 centesimi poi sale per la vastoviglie due chili viene 69 centesimi la date 5 ecco qua poi 10 uova della cabianca viene 1,19 cabianca ecco qua poi i cosi i tortellini ecco qua i tortellini questo è al crudo viene 1,19 e i cefetti allo spec è sempre 1,19 poi il wuster un chilo di wuster viene 2,39 ok e il cremosino che non manca mai viene 2,99 euro questo è buonissimo bene ecco cosa mi dimenticavo poi ho preso un altro all'iper ho preso un mezzo chilo di bavette di barilla che serve 0,79 centesimi e poi ho preso l'origano no no l'oro che viene sempre lì viene 1,79 euro ecco con questo ho finito spero che il video se vi sia piaciuto iscrivetevi commentate mettete like condividete e basta ci sentiamo alla prossima spero gentili e giuseppe che state tutte bene ciao a tutte a presto grazie a tutti